Sciacca in vetrina fu messa in atto per la prima volta nel 2014 e una iniziativa dell'altra sciacca consiste nell'adozione gratuita da parte del club fotografico dell'associazione della vetrina dell'ufficio turistico del comune, quella di via Roma. Lo scopo dell'iniziativa è quello di raccontare sciacca con le sue tradizioni, i suoi monumenti, i suoi aspetti enogastronomici attraverso le tante fotografie di cui il fotoclub dell'altra sciacca è in possesso. Il tutto arricchito da manufatti tipici e descrizioni in tre lingue. Le prime due edizioni avevano interessato alla vetrina dell'ufficio turistico comunale, poi nel 2016 l'iniziativa era stata trasferita nella garitta di Porta Palermo e ora si torna alla location originaria dove sicuramente ha più risalto. La proposta è stata accolta anche dall'attuale amministrazione, dal vice sindaco Filippo Bellanca e dal personale dell'ufficio turistico che ha collaborato per l'allestimento. La prima vetrina è dedicata alla festa della Madonna del Soccorso che si svolgerà il 2 febbraio. Oltre alle foto di Ambra Favetta, Claudia Spinelli, Francesco Gallo e Pietro Virghedamo, fa bella mostra di sé l'opera in ceramica del maestro Perconte che raffigura il simulacro della Madonna del Soccorso con i relativi portatori.